Tutto è pronto. Apertura di giornata. Kiti. Infinity Game all'interno di Aethos, come era largamente prevedibile. Poi Aethos passa su Infinity Determination che manda in terza corsia Sil Lallero. E allora dietro Aethos un terzetto, Infinity Determination e in terza corsia Sil Lallero. Determination si mette ultimo perché Sil Lallero va ai lati, Infinity Game. Aethos conduce ora dell'approccio della letta di fronte e precede Infinity Game. All'esterno Sil Lallero in corda, galoppa invece Determination. Si corre in pista grande, da qui alla fine, sempre di domenica, sempre in pista grande, con Aethos che ha di fuori Infinity Game in corda Determination di fuori Sil Lallero. Quattro cavalli nello stesso ordine, quando si entra in pieno bosco. Aethos aspetta ad allungare la scia Determination all'esterno Infinity Game e Sil Lallero. Quattro cavalli abbastanza vicini. Determination è montato da Dario Vargio, almeno visivamente parlando. Ora tocca che assaggia anche la frusta. Aethos va via di lena, Infinity lo attacca, Sil Lallero si prepara. Per Vargio invece andrà Determination con l'ingresso addirittura. Aethos e Infinity Game in allungo da Determination e Sil Lallero. Con Aethos prova a cambiare passo, Infinity Game è già lanciato in piena spinta. Aethos deve essere richiesto dal suo interprete con Infinity di fuori. Poi Determination e Sil Lallero. Aethos assaggia la frusta per spingere Infinity Game. Sil Lallero non è della partita, Determination. Aethos è in vantaggio, sta allungando. Aethos in una corsa a vendere, un vero e proprio lusso. Infinity Game in secondo, Sil Lallero terzo. Poi Determination. È una delle scuderie più in forma della stagione da quando Francesco Santella è venuto qua in Toscana. Vince a ripetizione con quasi tutti i suoi effettivi. E anche Aethos ha proseguito la striscia positiva. Infinity Game torna su un bello standard. Secondo, terzo, Sil Lallero. Da rivedere, o se preferite, rivedibile. Determination dalla postazione centrale è tutto. Rientrano schierati a ventaglio i quattro concorrenti, ma noi andiamo a cercare quella all'interno di tutti. Aethos con Riccardo Iacopini in sella. Beh, Riccardo, l'altro giorno hai trovato la via del traguardo e oggi subito il bis. Fortunatamente è andata bene anche oggi. Oggi Aethos era un altro cavallo rispetto alla giorno dell'Ientri. Sì, all'ultima, magari rientrava un pochino a sofferto la corsa. Poi c'era un terrenaccio pesante. Oggi era più galoppabile dell'altra volta. Come l'hai sentito? Bene, generosissimo. Riccardo Iacopini che vince ancora a San Rossone, questa volta in sella a Aethos. Colori e training di Francesco Santella. Grazie. Grazie. Grazie.